non c'è un'opera da dire è bella e brutta bisogna prendere in considerazione che è un'opera pettorica smontata quindi l'unica cosa che potrebbe affascinare il mistero di che cos'era queste 4500 pennellate quindi è stato proprio eliminato il concetto del bello e del brutto non puoi più parlare di un'opera questa mi piace di più di questa il colore di per sé è rufiano i quadri quando proprio piacciono fanno parte di un concetto di un qualcosa che è rufiano lo stesso però in più sono delle opere un po' puttane perché vanno con chi le paga ma qui siamo proprio di fronte diametralmente opposto perché non parliamo più di un'opera che può piacere o non può piacere un'opera smontata rimane solamente il mistero di che cos'era però c'è una tridimensionalità vera alla quale io preferisco anche perché quella attaccata su un supporto non mi convinceva più attaccata sul supporto c'è sempre bisogno di fare l'opera pittorica con interventi di chiaro scuro luci ombre ombre riportate primi piani ultimi piani per creare dei volumi che in realtà poi sulle opere sono piatti è una finzione l'arte pittorica è una finzione buon per noi che c'è stato cent'anni fa che è stato poi una scuola per tutti picasso che ha fatto delle tridimensionalità ma sempre finzione quindi che cosa bisogna fare dopo picasso c'è qualcuno che si ferma io mi sono fermato per due anni senza fare nulla e me lo sono chiesto e la prima esperienza è venuta proprio così facendo delle pennellate per esempio rosse su un quadro poi facendo delle pennellate su una plastica rossa dopo due tre giorni quelle sulla plastica si staccano le prendo e le porto da qualche parte o anche per terra quelle sulla tela rimangono e quindi hai una tridimensionalità vera è un'opera pittorica falsa finzione essendo un'impostazione di un concetto di opere d'arte sempre tra virgolette è fatto in una maniera diametramente opposto al dipingere e quindi anziché dipingere su io smonto da delle coordinate ci sono mi ricordo quel volume che versava Pollock sulle tele camminando passeggiando il volume che il tempo che passava perché quel volume scendesse dal pennello fino a posarsi sulla sulla tela era un volume libero poi va a spiccicarsi sulla tela e quindi poi rimane anche quella finzione però quello mi ha interessato molto un altro fatto è successo nel laboratorio di ugo nespolo a torino nell 82 credo nespolo lavora con questi puzzle con opere pittoriche scomposte no nel trasportare un pannello di 50 per 50 urtando verso un angolo mi cadde quasi metà dell'opera per terra era riconoscibile quella che è rimasta sul pannello ancora da incollare mentre non si conosceva niente su quella che era caduta per terra nel raccoglierlo prima in un bucchietto per poi prepararlo di nuovo su un tavolo e posandolo si è raccolto un bucchietto un piccolo grumo di pezzi di colore di pezzi di compensato colorati era una tridimensionalità vera era un volume metà del volume dell'opera questo l'abbiamo abbracciato proprio dopo un licenziamento del centro stile design perché c'era un po di tempo che riflettevo tutti e due i piedi in una scarpa non possono stare quindi scegli o uno o l'altro o il pittorobbista come diceva il buonanima di antonio verri o della domenica come amava chiamarli oppure lo fai a tempo piena insomma quindi rinuncia a un reddito fisso e fai questo lavoro e c'è da avanti a fare qualche cosa ma non sai che cosa quindi si va avanti questo per esempio l'ultimo il penultimo ciclo quindi si va avanti a fare un qualche cosa ma sempre studiando non ti soddisfa mai sono passate delle notti sono passate domeniche delle feste quando è avvenuto questo dal ciclo precedente fino a questo siamo rimasti praticamente due anni fermi a pensare che cosa fare e non si sapeva ancora che cosa fare questo è successo anche dopo in un periodo di sei mesi vissuto alle canarie perché proprio ho fatto le valigie proprio sono andato fuori da quest'area lì c'era mi avvicinavo sempre di più però non sapevo esattamente allora una volta tornati qui la prima cosa da fare sicura era quella di tagliare col passato queste opere come già detto non mi convincevano più bisognava fare qualche cosa di diverso ma non si sapeva che cosa fare e poi siamo arrivati a quella a quel momento in cui uno fa sulla tela e sulla plastica eccetera eccetera da 15 16 anni non faccio altro che creare un ponte gettare un ponte con altri con altri ambienti perché ripeto terrorizza un po non 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 vogliono non sanno che comunque cambierà prima o poi se non è questa cambierà un altro non immagino un po il discorso di fontana 60 50 anni fa quando ha tagliato delle tele per vivere uno spazio con la vittura non si sa perché qui si rimane ancora è uno strano territorio per certi aspetti è uno strano territorio ma non si sa perché è una cosa sia per la costa di faricare di quei aspetti è un po' di attraverso che rimane ancora più un po' di rischi e il suo strano di risparso che rimane ancora è una che rimane ancora più elevato in campo è il rischio da perdere un paese con quella di appare che indese che rimane ancora più vicino 2 passato in campo è molto piùنا